Dalle montagne al mare con le spiagge aperte anche in ottobre in Liguria per sfruttare il nostro clima perché ci sono ancora molti turisti che soggiornano nelle nostre zone in questo periodo. Sì, la sorpresa di un'estate sorprendente è stato il prolungamento della stagione per quanto riguarda i turisti. Abbiamo letto in questi ultimi giorni di un numero elevato in termini percentuali di presenze di turisti americani e quindi l'idea e la volontà di tenere aperti i nostri stabilimenti per l'elioterapia anche a ottobre è stata recepita con estrema soddisfazione dall'assessorato al turismo perché garantiamo un'offerta ai nostri turisti più ampia anche ai residenti che noi che siamo liguri al mare ci andiamo volentieri nelle belle giornate. Quindi penso che sia un'idea da spingere, da portare avanti e da tutelare nel senso da far sì che sia resa possibile in sicurezza ma rendendo facile agli operatori tenere aperte le spiagge, non solo a ottobre perché ripeto, noi abbiamo la fortuna nelle nostre riviere che anche a dicembre, gennaio, febbraio, nelle giornate di sole e senza vento si può fare un bel bagno di sole non un bagno di mare ma un bagno di sole certamente. Grazie. 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 Grazie.